oh vediamo che roba fighissima lui tamburi ma qui ragazzi si va oltre ogni cosa il generale lì ragazzi guardate qui che spettacolo di librea che ho trovato che spettacolo solo queste cose può fare hot wheels un lashes grazie milestone di milano bellissima ragazzi siete troppo mitici guardate il generale lì mamma che ricordi mamma che figata la grande dodge charger daytona del 69 trasformato in generale lì ciao ragazzi ciao